A Monte esattamente a 68.750 euro il contributo per il Carnevale di Sciacca 2018 ottenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali. Una buona notizia proprio nei giorni in cui si è messa in moto la macchina organizzativa per la prossima edizione della festa, con il bando riservato ai carristi che ha registrato la partecipazione di più associazioni rispetto al numero dei carri che quest'anno saranno ammessi al concorso. Il contributo ministeriale è stato elargito a seguito di un bando per il triennio 2018-2020 finalizzato a sostenere i carnevali storici d'Italia al quale il Comune di Sciacca aveva partecipato. Il fondo stanziato per tutte le manifestazioni ammonta complessivamente ad 1.751.000 euro. I singoli contributi erano legati ad un punteggio, 75 quello ottenuto dal Carnevale di Sciacca che si è piazzato al ventunesimo posto, preceduto dal Carnevale di Mister Bianco che ha ottenuto 75.000 euro e dal Carnevale di Acireale che ha ottenuto 71.250 euro. Segue Sciacca un altro Carnevale siciliano, quello di Palazzola Creide che con 71 punti ha ottenuto 50.000 euro. Determinante è stata l'adesione del Comune di Sciacca all'Associazione dei Carnevali Storici d'Italia avvenuta nel 2016 durante l'amministrazione di Paola su iniziativa dell'allora assessore Salvatore Monte che aveva già ottenuto un primo contributo di circa 33.000 euro. Quello di oggi, commenta Monte, è un finanziamento che cambia le cose perché se negli anni si riuscirà a stabilizzare questo contributo statale, il Carnevale di Sciacca tornerà a poter contare su una somma che alleggerirà il costo a carico del Comune come avveniva tanti anni fa grazie alla Regione. C'è da proseguire questa continuità amministrativa perché evidentemente tutto quello che è stato fatto dalla precedente amministrazione non è da buttare a mare, ha aggiunto l'ex assessore, oggi consigliere comunale di opposizione. Sul finanziamento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali è intervenuto anche l'ex assessore Filippo Bellanca che aveva partecipato a vari incontri presso il Ministero assieme ad altri esponenti dell'Associazione Carnevali d'Italia per ottenere questo risultato. Ho dato personalmente mandato agli uffici comunali di predisporre gli atti per la partecipazione all'avviso pubblico per il triennio 2018-2020 con il quale la Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei Beni e le Attività Culturali contribuisce al sostegno dei Carnevali Storici d'Italia, evidenziato Filippo Bellanca che oggi ovviamente ha espresso soddisfazione per la notizia del contributo ottenuto. Promuovere e valorizzare le attività legate al Carnevale, ha aggiunto Bellanca, è una strada da seguire con dedizione, costanza e impegno. Spero, dichiara l'ex assessore, che l'attuale amministrazione comunale sia nelle condizioni di farlo come facevo io, di utilizzare al meglio le risorse destinate alla nostra popolare festa e dare seguito al percorso che era stato intrapreso e che in modo brusco è stato interrotto. Insomma, anche Bellanca, come Monte, non perde l'occasione per evidenziare il lavoro svolto come amministratore e infatti annuncia che nell'estate del 2019 si concretizzerà un'altra attività da lui portata avanti e che riguarderà un megaevento che un'importante casa di alta moda ha deciso di svolgere proprio a Schatt.